La Capitaneria Guardia Costiera di Napoli ha effettuato una vasta e complessa operazione di polizia marittima e giudiziaria a tutela dell'ambiente marino, della sicurezza della navigazione e del demanio marittimo nella Baia di Nisida e Coroglio. Gli uomini in bianco, da sempre presenti nella prevenzione e nella repressione dei reati connessi, conserrati i controlli, hanno consentito di rilevare un caso di occupazione totalmente abusiva di uno specchio d'acqua ad estensione di circa 400 metri quadrati, consistenti in un ormeggio di natanti da diporto, a mezzo di corpi e gavitelli e boi in superficie ai quali erano legati 14 imbarcazioni, il tutto privo di qualsivoglia titolo autorizzativo. I militari della Guardia Costiera hanno provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria il responsabile del reato di occupazione abusiva e contestualmente hanno proceduto al sequestro di numerosi corpi morti utilizzati per facilitare l'ormeggio illegale dei natanti. Inoltre sono state contestate diverse infrazioni di norme amministrative per la violazione del codice della navigazione, per le quali sono state cominate multe superiori a 4.000 euro.